Cari ascoltatori di Radio Puginon Air, benvenuti ad un nuovo episodio. Abbiamo un argomento davvero appassionante, il Festival di Sanremo 2025. Preparatevi per un viaggio dettagliato e approfondito tra le novità, le attese e le curiosità di questo evento che da decenni cattura l'attenzione di milioni di italiani e non solo. Oggi parleremo delle date ufficiali, delle novità più interessanti e del ritorno di Carlo Conti come conduttore. Mettetevi comodi perché ci aspetta una lunga e affascinante chiacchierata sul Festival di Sanremo 2025. Le date ufficiali del Festival di Sanremo 2025 sono state finalmente annunciate. Il Festival andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2025. L'annuncio è stato inizialmente dato dal direttore del Teatro Ariston, Walter Vacchino, durante la presentazione della prossima stagione teatrale. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo e un po' di sorpresa, dato che sembrava essere uno spoiler non concordato. Poche ore dopo è stato lo stesso Carlo Conti a confermare le date attraverso una storia su Instagram, consolidando così le informazioni diffuse in precedenza. Walter Vacchino nel corso della presentazione della stagione del Teatro Ariston ha inavvertitamente o forse intenzionalmente rivelato le date del Festival. Questo ha generato un'immediata ondata di eccitazione tra i fan e gli addetti ai lavori. La conferma ufficiale di Carlo Conti ha poi sigillato la notizia, alimentando ulteriormente l'attesa per l'evento musicale più importante d'Italia. La scelta di Vacchino di rivelare queste informazioni durante la presentazione ha fatto discutere, lasciando il dubbio se sia stato concordato tutto questo, sia stato uno scivolone o una mossa strategica dunque per accrescere l'hype attorno al Festival. Una delle novità più attese per il Festival di Sanremo 2025 è il ritorno di Carlo Conti come conduttore. Carlo Conti ha già una lunga storia con il Festival, avendolo condotto per tre anni consecutivi dal 2015 al 2017. Durante il suo mandato Conti ha contribuito a rinvigorire l'evento con la sua professionalità e carisma. Il suo ritorno è quindi visto come un segnale positivo per molti appassionati. Un'altra grande novità è il ritorno della divisione tra big e nuove proposte. Questa struttura era stata abbandonata nelle ultime edizioni, ma per il 2025 tornerà in auge. La competizione tra big e nuove proposte permette di dare spazio sia agli artisti affermati, sia ai talenti emergenti, offrendo una piattaforma di visibilità per i nuovi volti della musica italiana. Importante sottolineare che non ci saranno eliminazioni durante il Festival, garantendo così a tutti i partecipanti la possibilità di esibirsi più volte. Un altro elemento che farà il suo ritorno è il Dopo Festival, il talk show che segue le serate del Festival di Sanremo. Questo programma ha sempre rappresentato un momento di decompressione e approfondimento dove artisti, giornalisti e critici si confrontano sulle performance della serata appena conclusa. La durata delle puntate del Festival sarà più breve rispetto a quelle degli anni di conduzione di Amadeus che non finivano mai lasciando più spazio per il Dopo Festival. Tra i nomi più gettonati per la conduzione del Dopo Festival c'è quello di Alessandro Catlan, una scelta che promette di portare freschezza e dinamismo al format. Carlo Conti non è nuovo al palco dell'Ariston, ha condotto il Festival per tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017. Ogni anno ha affiancato diversi co-conduttori portando sempre una ventata di novità e professionalità. Nelle 2015 Conti era accompagnato da Emma Marrone Arisa e Rocio Munoz Morales. L'anno successivo Virginia, Raffaele, Gabriele Garco e Madlena Gnea lo hanno affiancato. Infine, nel 2017, Maria De Filippi ha condiviso il palco con lui, segnando uno dei momenti più alti della sua carriera sanremese. Dopo il triennio di Conti, il Festival è passato nelle mani di Claudio Bagioni per due anni, seguito dal quinquennio di Amadeus che ha ottenuto risultati record. Le aspettative per il Festival di Sanremo 2025 sono altissime dunque. Il ritorno di Carlo Conti promette una conduzione solida e carismatica, capace di attrarre un vasto pubblico. La divisione tra big e nuove proposte è vista come un ritorno alle origini, una scelta che potrebbe ravvivare l'interesse per le nuove generazioni di artisti. La reintroduzione del Dopo Festival, con un possibile conduttore del calibro di Alessandro Catlan, aggiunge un ulteriore livello di interesse e approfondimento alle serate sanremesi. Le prime reazioni all'annuncio delle date e delle novità del Festival di Sanremo 2025 sono state ampiamente positive. Sui social media i fan hanno espresso entusiasmo per il ritorno di Carlo Conti e per la reintroduzione delle nuove proposte del Dopo Festival. Anche i media hanno accolto favorevolmente la novità, sottolineando come queste scelte potrebbero riportare Sanremo ai suoi momenti di massimo splendore. Gli esperti del settore vedono in queste decisioni un tentativo di bilanciare tradizione e innovazione, mantenendo vivo l'interesse per uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia e anche seguiti nel resto del mondo. Con le date ufficiali ora confermate, l'attenzione si sposta sulla preparazione del Festival. Nelle prossime settimane verranno annunciati i nomi dei partecipanti, sia tra i big che tra le nuove proposte. Ogni anno la selezione degli artisti è un momento cruciale che può determinare il successo del Festival. Inoltre si attende con curiosità l'annuncio dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston. La scelta dei co-conduttori è sempre stata strategica per creare un mix di professionalità, divertimento e appeal mediatico. Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia dunque come un evento imperdibile, ricco di novità e di ritorni molto graditi. E noi, come ogni anno, siamo qui per raccontarvi tutto sul Festival di Sanremo, momento per momento, in tempo reale. Per cui restate sintonizzati con Radio Puggino NER perché è solo l'inizio di un lungo cammino, di una bellissima avventura, quella verso il Festival di Sanremo 2025. Con queste premesse, Sanremo 2025 promette di essere un'edizione memorabile, capace di rinnovare l'interesse del pubblico e di celebrare la grande tradizione musicale italiana. Grazie per averci seguito in questo episodio di Radio Puggino NER. Continuate a sintonizzarvi per ulteriori notizie e approfondimenti sul Festival di Sanremo 2025 e su tutti gli eventi più importanti del panorama musicale e culturale italiano. Io sono Marco Puggini, cantautore. Vi auguro una splendida giornata e vi do appuntamento al prossimo episodio di Radio Puggino NER.